Una buona serata e una buona domenica a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È stata una settimana intensa, ripercorriamo dunque insieme i fatti più importanti. Cioè qua arriva troppa gente, troppa gente e questi 50 metri quadrati sono piccolissimi. Siamo in piazzale Cialdini a Mestre. Da quando è stato rifatto in lucca la zona, se da una parte si è risolto il problema, dall'altra per chi vive nelle case circostanti a volte è un vero e proprio inferno, come ci racconta un residente. Arrivano autobus che partono da tutte le zone vicine, più ci sono i tram che arrivano e partono e inoltre tutto come vede le pensiline sono insufficienti perché se piove la gente sta fuori. Ma poi il bello è che questi sono 50 metri quadrati e nei giorni di mercoledì e venerdì, diciamo, quei giorni là dove c'è il mercato, qui sono centinaia e centinaia di persone. Oltretutto hanno fatto una cosa molto efficiente che è quel parcheggio di biciclette, però c'è un perché, peccato che non ci sono le piste ciclabili che arrivano fino là. Cioè quella zona di via Colombo è pericolosissima e anche la zona di via Lazeri. Non solo, il signor Dolphin segnala poi un altro aspetto. Un'altra zona che è molto pericolosa e dovrebbe mettere di segnalatori quando il tram passa è come vedi in fondo quel semaforo. Quando le macchine arrivano, girano a sinistra, ci sono i tram che arrivano e partono e non viene segnalato da nessuno, solo col suono del tram che vede la macchina. L'altro giorno si è ispirata anche alla tragedia. Adesso vorrei mettere di sera con la nebbia cosa può succedere. Perciò un avvisatore di passaggio dovrebbe esserci e inoltre tutto c'è anche da dire un'altra cosa, che le macchine che arrivano da via Colombo, girano a sinistra, molte volte si sbagliano e entrano per senso unico. E è pericolosissimo, bisognerebbe mettere dei forti segnali sia illuminati e anche di suono. Tutti messaggi indirizzati all'assessorato alla mobilità a cui chiederemo una risposta nei prossimi giorni. A Venezia la bella stagione potrebbe non essere finita solamente dal punto di vista meteorologico. Le previsioni sul futuro della giunta sono all'insegna dell'incertezza. Nonché l'ampia maggioranza su cui può contare il sindaco Brugnaro possa essere messa in discussione o assottigliarsi ai livelli di quella di Padova, ma i rapporti con la Lega Nord sono entrati in una fase che eufemisticamente si potrebbe definire delicata. Le indiscrezioni parlano dell'uscita di scena dell'assessore leghista al commercio Francesca Guzzon che darebbe il via ad un rimpasto dell'esecutivo che chiarirebbe nel riassegnamento delle deleghe se e come saranno cambiati i rapporti all'interno della maggioranza. Il segretario provinciale della Lega Sergio Vallotto per ora preferisce mantenere il silenzio. Certo è che le divergenze di vedute e di voto con Brugnaro in queste settimane non sono mancate dalla cherelle sul referendum per la separazione tra Mestra e Venezia alla questione sicurezza con il segretario regionale Gian Antonio D'Arè autore di un affondo verso il sindaco non proprio all'insegna della diplomazia. Nel frattempo le opposizioni dissotterrano l'ascia di guerra. A poco più di un anno dall'insediamento della giunta il Partito Democratico ha presentato i risultati di uno studio analitico sull'operato dell'amministrazione comunale. Di realizzato rispetto al programma ci sarebbe appena il 10% in alcuni casi peraltro frutto di processi iniziati nella precedente legislatura e la lista di cose da fare o non fatte è lunghissima. La stazione a Mestre ha bloccato un progetto di rigenerazione urbana facendo scappare una mattina 30 milioni di investimento privato alla regione e alle ferrovie. L'Aeroterminal, un progetto di straordinaria importanza a Tessera per il collegamento tra la terraferma e la città antica fermo anche quello. E le ZTL doveva esserci la rivoluzione siamo nel caos più totale, aumentano le multe e i cittadini non capiscono niente. Sulla questione turismo iniziamo dopo un anno e quindi dopo già un'estate passata con questa due stati passate con questa amministrazione l'assessore adesso inizia a chiedere alla città i progetti che sono esistenti quindi è evidente che manca soprattutto oltre a un sindaco che parla tanto mancano soprattutto degli assessori che abbiano degli idee. I negozi sono allo stremo, stanno chiudendo c'è veramente un grido d'allarme da fare e bisogna attivare politiche di marketing urbano come si dice per riportare la vita in città. Cosa sta facendo su questo l'amministrazione attuale di Brugnaro? Nulla, purtroppo molto poco. Commercianti veneziani nel mirino della giunta comunale che entro dicembre vuole rendere effettivi i cosiddetti pianini ovvero ridisegno degli spazi pubblici ad uso commerciale nella città storica. Un duro colpo per molti titolari di concessioni come Ugo Cemolin, la cui bancarella in campo San Vidale ai piedi del ponte dell'Accademia dovrà essere ridotta dalle attuali dimensioni di 3 metri per 2 a 2 per 1. A queste condizioni non mi sarebbe possibile lavorare, spiega. La scelta sarebbe travendere o diventare abusivo. Mi costituono a diventare illegale, sì oppure ad affittare a mangalesi, a persone direte fuori perché loro rimangono impuniti. In effetti basta fare un giro, guardarsi intorno e tu vedrai dappertutto che edicole tipo, banchi tipo sono tutti illegali, sono tutti fuori misura, sono un bazar sono. Quindi perché io che sono regolare devo diventare come loro non si va avanti costruendo il nuovo sul marcio. Cemolina ha scritto una lettera all'amministrazione per denunciare l'abitudine tutta italiana di creare regole più destrittive quando non si riesce a far rispettare quelle esistenti tanto per mostrare di star facendo qualcosa. Mi sembra di essere nel film di Chico Zalone cioè dove tu vai a chiedere vuoi lavorare regolare? Non puoi. Tu devi lavorare illegalmente. Se vuoi ottenere qua devi lavorare illegalmente non c'è altro da fare. L'invito all'amministrazione a tornare sui suoi passi e smetterla di perseguitare i pochi venditori che hanno sempre rispettato la legge. Pena fa è figuraccia che hanno fatto con i banchi di grano dove hanno tolto i banchi di grano e ci hanno trovato decine e decine di abusivi che estorcevano denaro col grano ai turisti. Cioè è inutile diminuire, spostare, togliere e dopo trovarsi l'abusivo di fronte perché non riescono a eliminarli non riescono a controllare non riescono a far rispettare i regolamenti, le norme però è più facile dire colpisco chi è più debole. Stessa situazione per Lorenzo Bragato esercente di Campo Santo Stefano che si vedrà ridurre il plateatico di circa il 50%. Il prossimo anno festeggerei 50 anni di attività perché prima c'era il nostro padre e loro me lo vogliono togliere e mi ritrovo che non posso più andare avanti perché mi ritrovo con delle spese altissime perché ho quasi 10.000 euro di affitto al mese da tirar fuori ho del personale che poi io dovrò lasciare a casa e non riuscirei ad andare avanti e loro vogliono chiudermi l'attività. Si continuano a concedere nuovi plateatici in calli piccole e strette, ricorda Bragato e a chi è qui da 50 anni in un campo dove non ci sono di scuro problemi di spazio si vuole rendere impossibile continuare a lavorare non capisco il senso di tutto questo. Vedo che qui a nessuno frega niente gli basta fare un po' di politica e non pensare alle famiglie e alla gente di Venezia. Eccolo qui tutto l'occorrente per permettere al candidato di mostrare il video del test di teoria al suo suggeritore e ricevere le risposte esatte nel covo di Mira e nelle abitazioni dell'organizzazione che truccava gli esami della patente e composta principalmente da titolari e dipendenti di autoscuole del veneziano la polizia stradale di Treviso ha sequestrato proprio quello che cercava. Sono stati trovati decine di telefonini sim card, micro auricolari wireless telecamere, micro telecamere batterie, nastri isolanti tutto ciò che noi abbiamo individuato durante l'indagine è stato ritrovato in fase di perquisizione. Molti contanti, quasi 30.000 euro già sequestrati occultati o in parti della casa addirittura una grossa somma è stata trovata in una valigetta nascosta sotto un mobile e di cui non è stata data alcuna spiegazione plausibile. Circa 30.000 euro nelle abitazioni di Umberto Cavasin titolare delle autoscuole del gruppo 2000 di Mestre e di Ugo Chiepatti, socio della Serenissima sempre di Mestre nell'appartamento di Mira usato come base logistica anche camice e t-shirt. Sono stati trovati moltissimi dei capi addirittura abbiamo anche riconosciuto alcuni dei capi che avevamo visto addosso alle persone nelle motorizzazioni e poi ne abbiamo trovati anche molti altri erano tutti, fra virgolette, era tutto il guardaroba che veniva utilizzato a seconda della stazza e del sesso del candidato per poter occultare poi dispositivi di registrazione delle immagini. Due gli appartamenti presi in affitto a Mira per tenere vestiti e materiale elettronico la banda aveva ripulito il primo e trasferito tutto quanto quando si era vista scoperta. Durante la fase dell'indagine c'è stato un momento in cui è stato individuato un veicolo dei nostri che pedinava queste persone e loro hanno avuto un momento in cui si sono preoccupati e tant'è vero che hanno smantellato la prima base logistica per poi ripristinarla in un altro luogo. Non hanno avuto alcuna battuta d'arresto nelle loro attività e hanno continuato imperteriti assolutamente convinti di non essere in alcun modo in pericolo. I servizi educativi veneziani sono al collasso. La denuncia arriva dai sindacati che ribadiscono quanto sostenuto nei mesi precedenti. Chiaro che il disservizio è già effettivo e per fortuna per il momento non siamo arrivati alle chiusure ma non manca tanto. Vedrete che purtroppo sarà una Cassandra ma la realtà è questa. Tra poco si arriveranno alle chiusure. Non può funzionare così. Voi capite che con organici di questo tipo se noi prendiamo ad esempio Marghera il nido cappuccetto rosso dove sono tre insegnanti una mattina, una mezza giornata e uno pomeriggio voi capite che se al mattino questa sta male chi apre quel nido? Nessuno. La situazione ormai è sotto gli occhi di tutti. Ci sono casi in cui le educatrici si possono trovare da sole anche con 18 bambini. Non si possono aprire le scuole senza personale supplente. Già oggi abbiamo dei buchi di organico non solo le persone supplente. Non si possono spostare le persone ogni giorno da una parte a un'altra da Lido a Marghera da Marghera a Favaro da Lido a San Pietro voi capite che non c'è la continuità abbiamo buchi dappertutto. Ecco perché i sindacati che sostengono di non riuscire ad avere un dialogo con il sindaco Brugnaro propongono una soluzione concreta. Noi non chiediamo di tutti allegri tutti dentro senza nessuna verifica ma un concorso serio per le persone che stanno già lavorando da anni. Con questo avremo risolto il problema e potremo anche il sindaco potrebbe anche autorizzare tutti i bimbi che sono rimasti fuori a farli entrare nei nidi comunali. L'assessore leghista al commercio Francesca Guzzon dice addio all'Aggiunta Brugnaro dietro alle dimissioni ufficializzate nelle scorse ore ma già da tempo nell'aria ci sarebbero questioni politiche più che personali. La parola data e il rispetto degli impegni assunti con gli elettori per me vengono prima della convenienza personale e della poltrona spiega preferisco lasciare l'incarico che tradire la fiducia dei cittadini. A me dispiace veramente che Francesca abbia dato le dimissioni che è una ragazza splendida una ragazza che si è data da fare e ha fatto il suo lavoro come assessore in maniera egregia. Certo che portare avanti l'impegno di un assessorato a Venezia oggi non è facile specialmente in questo clima che stiamo vivendo all'interno della meditazione comunale in appoggio alla maggioranza. L'alleanza tra la Lega e il sindaco di Venezia non è finita spiega il segretario provinciale del Carroccio Sergio Vallotto ma per tenerla in piedi è necessario che la politica dell'amministrazione cambi profondamente. La settimana prossima io e Brugnaro e il sindaco di Montavolo apriremo le discussioni io credo che ci siano spazi di manovra per poter anche continuare questa esperienza politica di appoggio a Brugnaro. Tra le ragioni di attrito il referendum sulla divisione del comune e l'elezione diretta del sindaco metropolitano. è importantissimo per noi perché noi siamo per che il popolo possa esprimersi è il nostro motto è sicuramente importante e fondamentale ma sul tavolo ci sono altre problematiche più importanti. Ma la questione centrale sostiene Vallotto riguarda la gestione della sicurezza in città. La sicurezza è qualcosa su cui noi puntiamo moltissimo non vediamo un'azione forte e all'altezza della città Venezia per garantire una sicurezza che si chiami e dia il senso di sicurezza. Oggi non si percepisce sicurezza. Se ci sono dei margini per cambiare rotta resteremo nella maggioranza conclude il leghista altrimenti ce ne andremo per la nostra strada. Io sono per una trattativa sempre e comunque perché la politica è dialogo è trattativa. Ecco se mancasse il dialogo allora credo che non ci sia una possibilità. Non ho ben capito il motivo delle dimissioni assessore al commercio si è parlato di stress visto sui giornali che c'era dello stress sinceramente problematiche particolari non ce ne sono. La crisi all'interno della giunta Brugnaro non toglie il sonno all'assessore alla mobilità Renato Boraso che calcolatrice alla mano alza le spalle i numeri per far tremare la maggioranza non ci sono. Se la Lega dovesse definitivamente uscire dalla maggioranza erano due consiglieri che sono giunti alla maggioranza perché l'accordo è stato fatto dopo della vittoria di Brugnaro al primo turno. So che Brugnaro e il segretario leghista Antonio Darae si incontreranno in questi giorni conferma Boraso sono sicuro che appianeranno qualsiasi divergenza tra la Lega e questa amministrazione. Nel frattempo se serve qualcuno che prenda in mano le deleghe della dimissionaria Francesca Guzzonna io sono disponibile. Io sono a disposizione l'ho già scritto al sindaco che se ha bisogno in questi prossimi giorni tranquillamente assumo anche la delega del commercio perché sono stressato dalle poche deleghe l'assessore Boraso siccome ha poche deleghe e più deleghe in meno sinceramente mi metto a disposizione per dare una mano a Luigi Brugnaro anche sul commercio e ce n'è molto bisogno perché la città ha bisogno di rilanciare tutto un settore quale è quello del commercio che è in assoluta difficoltà. Il tempo è ormai maturo perché anche le donne sia nubili che coniugate possono esercitare il sacerdozio il contesto umano l'evoluzione è tale per cui la dignità della donna oggi è un fatto ormai comunemente accettato e credo che non sia minimamente in contrasto con una situazione lontana che aveva cultura regola di vita mentalità L'appello di Don Armando Trevisiolo 87enne fondatore dei centri Don Vecchi una vita dedicata ad alleviare le sofferenze dei poveri e degli anziani prende le mosse dalla vicenda del suo amico Marco Scarpa al parroco veneziano di San Pantalon la vocazione di Don Marco è ancora la stessa assicura l'anziano sacerdote se da innamorato non può più fare il prete è solo per le regole della chiesa credo sia tempo di aprire le porte al sacerdozio delle persone coniugate a quello delle donne non ci vedo nulla in contrasto con l'insegnamento di Cristo ma solo con alcune tradizioni del passato che oggi non hanno più senso se Cristo parlasse adesso parlerebbe in rapporto alla società che c'è oggi oggi io ho 90 anni quando ero ragazzino era impensabile che una donna facesse il giudice che facesse la man facesse il deputato facesse mille altre cose facesse la poliziotta o la conduttrice di treno oggi felicemente secondo me la donna che fa parte della stirpe umana ha tutti i diritti che ha l'uomo e ha tutta la dignità che è l'uomo stesso per cui non vedo che questi condizionamenti della tradizione debbano incidere più di tanto su quello che invece è la possibilità che un figlio di Dio può offrire per il messaggio cristiano il PD attacca la maggioranza all'indomani dell'approvazione delle 9 ulse al posto delle attuali 21 da parte del Consiglio regionale alla fine sostengono i consiglieri democratici con una notevole forzatura regolamentare 9 si è rivelato il numero magico per non rompere gli equilibri politici all'interno della Lega doveva essere la riforma di tutti invece alle opposizioni è stato negato da parte della maggioranza la possibilità di migliorare questa riforma garantendo a tutti i territori e a tutte le province pari criteri criteri generali che avrebbero dovuto offrire servizi di qualità a tutti i cittadini dopo il confronto proficuo che ha portato alla riscrittura della parte relativa all'azienda Zero aggiunge Claudio Sinigaglia troviamo incomprensibile quanto accaduto anche perché con il presidente Luca Zaia era stato avviato un dialogo costruttivo non capisco cosa sia il successo dopo l'incontro che abbiamo avuto con Zaia perché l'incontro nella trattativa era al 95% concluso e non si è capito perché la maggioranza al proprio interno non abbia trovato un'intesa Zaia grande assente in questa discussione ha deciso di piegare la schiena ai criteri di spartizione quelli per cui un consigliere è più bravo degli altri a difendere il proprio territorio si chiudendo la porta a dei criteri condivisi fatti per rispondere con trasparenza alle richieste fatte da diverse conferenze dei sindaci la responsabilità sul pasticcio delle US del Veneto e sui tempi lunghi di questa discussione della maggioranza accusano invece i 5 Stelle e fra poco vedremo la resa dei conti nessuno né l'assessore né i tecnici né il presidente Zaia primo firmatario di questa resa ci ha detto perché Bassano Portogruaro sì e il resto no questa è la cosa che purtroppo vi verrà ricriminata da qui alla fine inferocito il tosiano Maurizio Conte fino a ieri rimpiange c'era l'Ulss 15 alta padovana col bilancio inattivo per oltre un milione di euro da domani il nostro nuovo bilancio condiviso con tutta la provincia di Padova avrà un debito di 60 milioni hanno eliminato l'Ulss più virtuosa d'Italia continueremo la battaglia in consiglio e forse anche in tribunale un nuovo treno per i pendolari in questo caso della tratta Venezia-Verona in circolazione sui binari del Veneto da oggi la nuova flotta regionale sale a quota 19 ma quello presentato alla stazione Santa Lucia di Venezia è solo il primo di un nuovo lotto di 5 treni che saranno consegnati entro i prossimi 6 mesi questi sono 23 treni a regime puntualità 94% dei treni siamo la prima regione in Italia con la massima puntualità ma dico anche che sono 23 treni da 500 posti che costano 9 milioni di euro all'uno e io ricordo nel 2010 quando sono arrivato sempre un sovraffollamento dei treni vecchi della sporcizia oggi queste sono le risposte che noi diamo rispetto ai vecchi convogli questi appaiono senz'altro più comodi e con molti più servizi dalle frese elettriche agli spazi per le biciclette ma oltre che al comfort dei viaggiatori nei nuovi vagoni ci si è voluti occupare anche di un altro genere di passeggeri quelli con i quali non si vorrebbe mai avere a che fare balordi che non vogliono pagare il biglietto addirittura vorrebbero anche fare i padroni di casa e ci sono le telecamere a questo giro quindi avvisati tutti ci sono le telecamere la minima porcheria che viene fatta dentro i nostri vagoni verrà punita e annuncio anche che la regione si costituirà contro anche il singolo la sicurezza il comfort la puntualità sono tutte caratteristiche che convergono su quella che è la vera sfida dei nuovi treni convincere viaggiatori e pendolari che abitualmente utilizzano l'automobile a cambiare abitudini dobbiamo riuscire a dare un servizio efficiente ed efficace e anche confortevole e nel momento in cui una persona fa una valutazione e dice posso prendere il treno o posso prendere la macchina deve assolutamente essere più vantaggioso il treno ed è su questo su cui stiamo lavorando e questi erano i fatti più importanti che hanno caratterizzato la settimana veneziana TG Venezia Mestre termina qui vi ringrazio per essere stati insieme a noi vi auguro una buona serata e un buon inizio di settimana arrivederci